90 persone, 90 esperienze di alto profilo pratico e professionale maturate in una terra dove piccolo e bello perché vuol dire valori, condivisione, un rapporto quotidiano che favorisce lo scambio di tecniche, risultati, pratiche e obiettivi. Nasce così la prima rete di impresa locale in Molise che unisce oltre 10 aziende che per ribadire la filosofia alla base di una sfida lanciata al mercato globale hanno scelto di metterci la faccia. Titolari e maestranze, professionisti artigiani si sono ritrovati di buon mattino sulla scalinata che porta la chiesa di San Giorgio a Campobasso davanti alla torre di Delicata Civerra. Nel cuore del centro storico dunque punto d'origine ma anche ambito ideale d'azione come spiega Adolfo Forcione, presidente di Alba Contract. 10 imprese e 90 maestranze specializzate nel settore della rete contract quindi sono aziende che vanno specializzate nella progettazione alle costruzioni, all'impiantistica come all'illuminazione e agli arredi. La nostra mission e una nostra specializzazione è quella dell'intervento negli spazi abitativi dei centri storici. Non per questo oggi abbiamo scelto questa location per immortalare il gruppo. Il Molise da sempre ha mostrato eccellenza nell'ambito di quelle professionalità che spaziano dall'edilizia all'impiantistica, dalla lavorazione di materiali anche preziosi alla decorazione. La rete d'impresa consente oggi a questi imprenditori di formalizzare un contratto di rete basato proprio su collaborazione, aggregazione e scambio tra di loro e rappresenta sicuramente un modello di business del tutto innovativo che si contrappone a un modello di tipo individualistico tradizionale dove la caratteristica principale era la frammentazione del processo produttivo. Quindi queste aziende oggi si mettono insieme e sicuramente riescono a fare economia sui costi, a condividere competenze e conoscenze e a competere sempre di più maggiormente in un mercato complesso e globalizzato. Il mercato globale richiede insieme lo stile italiano ma anche una dimensione che va al di là della piccola impresa, che si tratta di retail, franchising, ricettività alberghiera o anche luoghi di cultura fino alla ristrutturazione di edifici storici. La tendenza è ormai avere un unico interlocutore e in questo il Molise può esprimere un valore aggiunto su scala internazionale. 90 volti, 90 uomini, 90 esperienze che guardano dunque verso il futuro. Ce ne aveva parlato il nostro titolare di questa nuova realtà, guardandomi anche intorno vedendo amici, colleghi, professionisti posso dire di essere in un gruppo solido, molto solido e sì guardare comunque avanti e sperare in un futuro molto lavorativo.